Eccoci qua amici del convento stasera, vieni qua non ti allontanare che adesso ti ho beccato e invitiamo anche qualche ragazza, retrocediamo, retrocediamo anche se siamo passati ragazze giratevi ragazze, eccola qua, come si chiama la squadra del volley? Ospitaletto E il nome? L'hai già detto, dillo Ospitaletto Il capitano, beccato il capitano, ragazze abbiamo il capitano, facciamo un coro al capitano Allora, allora, ci sono tutte le tue compagne e c'è questo ragazzo qua, e mi ha detto che è il ragazzo di tutte Certo, è vero sì, abbiamo letto lui E grazie a lui che è stato promosso? Anche, grazie anche a lui sì Perché lui vi sosteneva in che momento? Il pre-partita, la sera prima della partita La sera prima della partita passava a casa di ognuna E ci sosteneva E dava un'iniezione di... Non era nei particolari Vai scendi, scendi, scendi Ma lei l'ha fatto per la squadra Sì, sì, si è sacrificata Si è sacrificata per la causa Sì, ha fatto bene, brava Ma mentre lui andava da tutte le compagne, lei cosa faceva? Non so, sarà andata dai suoi compagni, lui è un regbista, le è andate bene a lei insomma Giustamente, lui ha preso le pallavoliste dell'ospitaletto volley e lei è andata dai requisti, giusto? Ok, siete stati promossi in che categoria? In B, in B2 In B, quindi siete forti? Certo, non si vede Cavole Forti e belle Forti e belle Ma giocate con i branettini, i corti, tutte quelle cose lì Sì Ma raccontaci un po' perché tutti i tifosi si chiederanno come avete festeggiato la vittoria negli spogliatoi? Urlando E poi? Cantando E poi? Basta Perché tutti si immaginano i tifosi, quelli che sono venuti a sostenervi sotto le docce Come avete festeggiato? Non lo so, normale, gridando, urlando, normale, non facciamo immaginare niente di che Quindi è bello così, è bello così perché è bello così, no? Nessuno ha lanciato saponette? No, nessuna saponetta negli spogliatoi femminili, non funziona Non funziona così, ho capito, ho capito Ok, dai, fai un saluto a tutti i tifosi Ciao E a tutti quelli che vi hanno sostenuto quest'anno Ciao, grazie, ciao, ciao Al presidente? Ciao Allo sponsor? Ciao Ciao ragazze, ciao, ciao